Amare con tutto il cuore senza riserve, senza tornaconto personale, cercando l'incontro con l'altro, comprendendolo e perdonandolo, è la via per crescere nella comunità indicata da Papa Francesco e rappresentanti del Pontificio Collegio Spagnolo di San José di Roma, ricevuti in Vaticano a 125 anni dalla sua fondazione. Ricordando il compito dell'istituzione specializzata nella formazione del clero, il Pontificio ha sottolineato l'importanza dell'unità tra i fratelli, segno della presenza di Dio e la disponibilità ad offrire tutto se stessi per il Signore. La formazione di un sacerdote, ha detto il Papa Espagnolo, non può essere solo accademica, ma un processo che abbraccia la vita. Bisogna essere discepoli a tempo pieno per proclamare il messaggio evangelico in modo credibile. Pertanto è fondamentale fare discernimento in ascolto dello spirito. Quattro sono gli aspetti da curare, la formazione accademica, spirituale, comunitaria e apostolica. Infine, Francesco ha raccomandato di amare con tutta la forza, senza accontentarsi di una vita ordinata e tranquilla, ma nella ricerca della libertà dei figli di Dio, con l'affidamento alla provvidenza, rinunciando al superfluo, avvicinandosi ai poveri e ai deboli, perché, ha affermato il Papa, il diavolo entra sempre dalle tasche. Per favore, a concluso, ve lo dico da fratello, padre e amico, fuggite dal carrerismo ecclesiastico, è una peste.